La Galleria è una delle sale più belle di Palazzo Medici Riccardi. Luminosa, ricca, spettacolare, ci invita a stare occhi all'insù per cercare di cogliere gesti e significati dei tantissimi personaggi che affollano la volta. È uno degli esempi più preziosi dell'arte barocca fiorentina. Si deve alla volontà di Francesco Riccardi, padrone di casa, all'invenzione del dotto Alessandro Segni, al pennello vivace di Luca Giordano. Si celebrano, naturalmente, i Medici, che appaiono al centro della volta, come stelle intorno al Dio Giove, in omaggio ai satelliti che Galileo aveva da poco scoperto e nominato stelle medice. Si celebrano i Riccardi, protettori dell'ingegno dell'arte, ma soprattutto si celebra la vita. La vita umana, quel succedersi di eventi continui, dalla nascita oltre la morte. Tutto comincia nella caverna dell'eternità, dove la vita ha inizio e insieme con lei il tempo. Le tre parche tessono il filo della vita, pronte a reciderlo nel momento opportuno. Poi il giovane bellissimo Adone, spento dalle passioni d'amore, simbolo della primavera e della vita. Le nozze fra il Dio del mare e Nettune e Anfitrite, segno dell'amore pieno e dell'estate. Il trionfo di Bacco, icona della maturità e dell'autunno, cui fa specchio il lavoro nei campi, che gli uomini apprendono nel dialogo con la natura. Il rapimento di Proserpina da parte degli o degli inferi, Ade, che ci apre le porte dell'aldilà. Mentre la notte ci protegge con il suo e ci attende con la sua falce. Questo è l'incredibile, infinito girare della vita umana, da sempre. Ma agli angoli, cardini del nostro vivere, da sempre, le quattro virtù, capaci di accompagnarci e orientarci in questo viaggio. La giustizia, la temperanza, la prudenza, la fortezza. È grazie a loro che possiamo affrontare il nostro percorso. È grazie all'arte che possiamo ricordarcelo.